è il foglio numero 157 del codice atlantico è uno dei più belli a mio avviso siamo a vis a vis con la gioconda monnalisa madame elisa come la soleva chiamare napoleone buonaparte leonardo esprime così dice che la lente divergente deve essere sottile e mezza e pessa ai bordi un'unice di un'unice di braccia